Ben trovati e buona settimana a tutti da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Un lunedì all'insegna del tempo variabile seguirà un martedì con nuvolosità irregolare e ampi sprazzi di sole, isolate, precipitazioni. Il ritorno del sereno mercoledì che sembra destinato a prevalere per tutta la seconda parte della settimana. Il dettaglio oggi lunedì 12 agosto l'arrivo di una perturbazione porta a condizioni di tempo instabile e variabile. Il cielo sarà nuvoloso, molto nuvoloso, contemporanei sprazzi di sole. Non mancheranno precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale di intensità al più moderata, più probabili sulle Alpi Marittime. Venti in rinforzo fino a moderati da meridione, mare poco mosso, umidità su valori medio-alti, temperature massime stazionari lungo la costa tra 27 e 31 gradi, nelle zone interne tra 26 e 32 gradi. Domani, martedì 13 agosto, permarranno condizioni di instabilità nelle prime ore della notte, quando potremo avere residui rovesci o temporali nelle zone interne. Il seguito della giornata sarà irregolarmente nuvoloso, con ampie schiarite, passaggi nuvolosi, isolati piovaschi o deboli rovesci, più probabili sui rilievi. Venti fino a moderati, inizialmente da nord, tendenti a disporsi da ovest nel pomeriggio. Mare poco mosso, in aumento fino a mosso o molto mosso, levante in serata, umidità su valori medi, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 21 e 23 gradi, nelle zone interne tra 16 e 21 gradi. Massime stazionarie lungo la costa tra 28 e 31 gradi, nelle zone interne tra 27 e 31 gradi. Dopodomani, mercoledì 14 agosto, una lenta rimonta anticiclonica riporterà condizioni di bel tempo. Il sole splenderà su tutta la regione, appena disturbato da temporanei addensamenti più consistenti al mattino a Levante e nell'entroterra, nelle ore centrali. Venti da nord, moderati o localmente forti, in calo e in rotazione da ovest. Mare mosso, localmente molto mosso, in calo fino a poco mosso in serata, umidità su valori medi, temperature minime stazionarie lungo la costa tra 19 e 23 gradi, nelle zone interne tra 14 e 18 gradi. Massime stazionarie lungo la costa tra 28 e 31 gradi, nelle zone interne tra 25 e 30 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. A risentirci! Grazie! Grazie!